Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Nicola Turetta e sua moglie Elisabetta, genitori di Filippo, attualmente sotto inchiesta per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, si sono incontrati con il figlio presso il carcere di Montorio a Verona, dove è detenuto. È quanto riportato dalla press, citando fonti affidabili. Si tratta della prima volta che la madre e il padre di Filippo hanno un colloquio con lui dalla sua scomparsa l'11 novembre, la fuga in Germania, l'arresto vicino all'Ipsia dopo la morte di Giulia e l'estradizione in Italia. La coppia è entrata nella struttura detentiva intorno alle 12 e 10, ma pare siano usciti poco dopo. Il colloquio sarebbe durato circa un'ora. Abbracciando i genitori, Filippo avrebbe dichiarato, sono sollevato perché non sono solo, come riportato da ADN Kronos. Inizialmente, un incontro tra Filippo Turetta e i genitori era programmato per il 30 novembre, ma la coppia si è ritirata dall'incontro in carcere poche ore prima. La famiglia aveva ottenuto l'approvazione dalla procura di Venezia per il colloquio, ma hanno deciso di annullare, motivando la decisione con la necessità di un supporto psicologico per se stessi e per il figlio prima di un incontro faccia a faccia. Risulta che l'avvocato di Filippo, Giovanni Caruso, stia valutando una nuova strategia difensiva legata all'accusa di omicidio preterintenzionale, che prevede una pena dai 10 ai 18 anni di carcere. Durante l'interrogatorio esteso con il PM di Venezia lo scorso venerdì, Filippo Turetta avrebbe dichiarato in alcuni momenti che non era sua intenzione uccidere Giulia. Ma solo trattenerla in auto, Turetta avrebbe ammesso di aver compiuto una cosa terribile, affermando che Giulia gli apparteneva e a nessun altro, quasi come se avesse avuto un blackout. La difesa potrebbe concentrarsi sulla volontarietà effettiva delle sue azioni durante il processo.